In riferimento al progetto Enel di Castel San Vincenzo, anche la Regione Molise ha espresso parere sfavorevole al Ministero dell'Ambiente, ritenendo di grande interesse turistico l'area interessata dai lavori di generazione e pompaggio delle acque dal lago. La Regione Molise ha rilevato in particolare che nel caso di specie debba prevalere il principio di non arrecare danno all'ambiente, in quanto l'attività lederebbe in misura significativa la buona condizione e la resilienza degli ecosistemi, nonché lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. La Regione ha inoltre sottolineato l'alta valenza culturale, storica, artistica e turistica del complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno e l'importanza del patrimonio paesaggistico ed ambientale della riserva della biosfera Colle Meluccio e Monte di Mezzo, patrimonio dell'UNESCO. L'area in esame, sede anche del Parco delle Menard e di quello nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha delle peculiarità importanti tali da non permettere di deturpare un unicum ormai apprezzato da migliaia di turisti, ha commentato il Governatore Roberti. E sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente della provincia di Sernia, Alfredo Ricci. Per come progettato, l'impianto potrebbe determinare un significativo abbassamento del livello del lago che verrebbe violato sia nel suo aspetto esteriore sia nelle sue concrete possibilità di frizione antropica ed economica, ha dichiarato l'Avvocato Ricci. A ciò si aggiunga che anche le opere previste rischiano di deturpare le bellezze dei luoghi e quella natura incontaminata che è il fiore all'occhiello della nostra offerta turistica. Non è soltanto una questione di bellezza, conclude Ricci. Attorno al lago e alla risorsa acqua, l'intero comprensorio che ha in Castel San Vincenzo il fulcro geografico, ha da tempo sviluppato un tessuto economico virtuoso che ogni anno determina un flusso continuativo di turisti. L'intervento proposto da Enel rischia di compromettere anni di investimenti pubblici e privati e con essi di togliere prospettive ad un intero territorio.